Sono Gaetano Salemi, allenatore benemerito della Federazione Italiana Palacanestro, nonché allenatore, diciamo, fino a poco tempo fa, e attuale collaboratore del gruppo sportivo Casigasa Parre. Casigasa Parre, come tutti sanno, è stato costituito nel 72. A 16 anni hanno portato le ragazze in Serie C, a 21 anni in Serie B. Abbiamo fatto un'attività eccezionale dal punto di vista della propaganda e di quello che è lo sport del basket nella Bergamasca. In Val Gandino sono in corso queste attività legate al mini basket? Sì, mi è stato chiesto al professor Natale Bonandini, dirigente del basket Casnigo, se volevo partecipare a un'iniziativa, ero aderito e sto facendo le scuole elementari di Casnigo e Gandino e ho già finito quelle di Cazzano, Sant'Andrea. E a novembre inizierò quelle di Leffe. Insegnare un po' a questi ragazzini un po' come si gioca a basket, in sostanza i fondamenti per diventare ottimi gestisti. Sì e no. Sì, nel senso che lo scopo è quello del professor Bonandini e anche mio, quello di cercare di incoraggiare a fare inizialmente dello sport e poi se lo desidero ancora di fare dell'attività di basket. Naturalmente in poche lezioni non è che tu insegni niente che sia, diciamo così, importante ai fini della preparazione personale, però l'intendimento, e ci stiamo riuscendo, è quello di appassionarli ad andare in palestra, divertirsi, capire che c'è la possibilità di fare un certo tipo di attività in generale e di gioco in particolare, il gioco della palacarezza. Devo rilevare una cosa che ho già rilevato purtroppo anche in altre occasioni, che questi bambini nelle scuole elementari non hanno una disarmonia del corpo che è paurosa. Io un appello che faccio ai genitori è quello, mandateli nei cortili, nelle zone possibili, nelle palestre, fateli fare dei movimenti perché se crescono così sono disarmonici in una maniera paurosa.